su mettiamoci al lavoro su mettiamoci al lavoro bene ora anche da quest'altra parte ok ora iniziamo a costruire una colonna di 10 blocchi di legno su mettiamoci al lavoro ok ora iniziamo a costruire un condotto in legno a 5 blocchi di distanza eccovi in questo modo cominciamo a costruire all'interno ok ragazzi a questo punto non ci basta che coprire la parete eccovi iniziamo a costruire un po' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ora mettiamoci al lavoro per costruire il primo piano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.